I dati sono il nuovo carburante per l'economia digitale. L'enorme massa di dati sensibili che ogni giorno i nostri clienti riversano in rete deve essere protetta e resa disponibile in ogni momento. Sono Alison Gutmann, Communication Manager di SuperNAP. SuperNAP è un data center di co-location. I nostri clienti sono system integrator, cloud provider, piccole, medie e grandi aziende di tutti i settori ai quali offriamo spazi tecnologici per installare le loro infrastrutture IT. Sempre più spesso le aziende scelgono l'outsourcing della gestione IT per vari motivi, come la disponibilità del dato, la massima sostenibilità, sicurezza e, last but not least, il risparmio. La disponibilità dei dati viene assicurata da tre sistemi di alimentazione ridondati che ci permettono di garantire il 100% di uptime. Sono Massimo Mattioli, SuperNAP Pre-Sales Manager. EcoStruxure ci aiuta a raccogliere e visualizzare i back data generati dai nostri impianti tecnologici. Attraverso delle dashboard grafiche visualizziamo in tempo reale lo stato di salute del data center. I dati raccolti ci permettono di effettuare elaborazioni e fare dei benchmark. Grazie a questo potente strumento, il data center SuperNAP raggiunge oggi un PUE di 1.4, un risultato davvero eccezionale per una struttura delle nostre dimensioni. Il data center di SuperNAP è riconosciuto come il più avanzato del sud Europa. Se i dati sono la nuova moneta mondiale, SuperNAP è la banca più sicura. Grazie a tutti! Grazie a tutti